La sinistra regina Però faccio prima una importante presentazione. Alla base di questa ricostruzione storica fantasiosa non ci sono documenti, prove, circostanze inconfrutabili, ma come ha avvocato il senatore Meduri ci sono le parole di un mentito, soprattutto di Lauro. L'Auro che tra l'altro non è neanche testimone un volante di fantasiosi eventi, ma porta informazioni cadute in carcere da altri capitali come lui, quindi in un contesto molto particolare, molto confuso evidentemente. L'Auro traccia un collegamento tra la rivolta in Reggio e il conto in Borghese, per cui l'Andraga avrebbe favorito l'estrema destra per non blozzare la rivolta, per ottenere benefici, e avrebbe anche messo in sostituzione di Borghese un certo numero di uomini per realizzare questo accordo, in modo tale che poi in futuro ordine costituitosi avrebbe tratto altri benefici politici, economici e quant'altro. Queste situazioni sono molto gravi e gettano discredo nei confronti di un ambiente politico pulito e onesto. E secondo Lauro questa cosa sarebbe stata un fatto da Felice Zerbi e da Paolo Romeo. Ora io non voglio denunciarmi molto su questi aspetti, anche perché poi magari su Felice Zerbi mi riferirà a Renato Ingeri che lo conosceva direttamente. Dirò qualcosa su Paolo Romeo magari, anche se i giornalisti potrebbero rivolgersi a lui, visto che oggi è libero e vi verrà in gioco. Comunque, Romeo prese parte della ricotta di Greggio da giovane, era uno studente, è difficile che uno studente di vent'anni o più potesse essere coinvolto in trame oscure in cui erano presenti i servizi segreti, massoneria, parli a dirello Stato, e qua si tratta di persone dedicati in cui c'entrano personaggi in un certo livello, professionisti, nei servizi segreti. E' un discorso molto più complesso, ma è come dire che la strage che ha provocato la morte del giugno di Falcone è stato realizzata da Cosa Nostra. Certamente la raga aveva un ruolo con la vicenda, ma là c'erano di mezzi ingegneri, tecnici, esperti. Quindi, comunque, sono delle ricostruzioni fantasiose, fondamentalmente. Paolo Romeo è stato vicino al movimento sociale per gli anni 70, poi si è praticamente distaccato, ha riuscito a altre strade, è stato, si è avvicinato al Partito Socialista Democratico Italiano, che è stato anche eletto. Probabilmente ha capito che, ha capito che magari la strada della rivolta non era più percorribile, della lotta non era più percorribile, ha fatto altre scelte, e ha capito che queste scelte erano incompatibili con la missione del movimento sociale italiano, e se ne è andato. Non discuto sulle sue scelte, non discuto sul fatto che successivamente si è coinvolti ai processi di indragna, che è stato arrestato, che è stato condannato, sono fatti che tengono la sua coscienza, e risponderà, ha risposto di non essere a leggere, risponderà alla sua coscienza per sempre. Però il punto è che, sono fatti successivi, lui ha cambiato strada, ha lasciato il movimento sociale, ha percorso altre strade, non entrò in merito, ma non si possono utilizzare queste scelte successive per pensare che anche prima abbia svolto un ruolo in questo senso. Vado oltre, voglio parlare anche di Lauro. Lauro, oltre ad essere un mafioso, che come vi ha detto il senatore ha continuato a fare affari anche durante la collaborazione, era un socialista, Stefano Delle Iaia addirittura sostiene nel suo libro che era un militante di sinistra vicino a Giacomo Mancini, e questa è una cosa che deve fare a riflettere ovviamente, perché dobbiamo ricordarci che in quegli anni il potere politico in Calabria era rappresentato non dal movimento social italiano, ma anche dall'ADC, dal PSI, e in quegli anni i PCI erano rappresentati in Calabria da misasi più che altri da Mancini, Mancini appunto, e persone che hanno fatto nel loro peso politico in merito ai provvedimenti degli anni 70, che a Reggio non erano ben visti, ed entrambi sono stati oggetti oppure di processi rapporti con l'Andracca, addirittura su un disastro di RIS che è favorito l'inizio di Regina, per far sì che il post-libri, il lato di Stefano, potesse, diciamo, ottenere una serie di appatti e quant'altro. Quindi, come si può vedere, la posizione di Lauro è molto complessa. Ma io voglio fare anche un'altra osservazione. Innanzitutto ci devemo specificare che il fascismo fu un unico movimento che si fosse realmente all'Anfia, con l'opera di Cesare Mori in Sicilia, e fu un unico movimento che prese posizioni anche contro la massoneria. Ricordiamoci la legge del 25 contro la società segrete, non mi volta a mettere a bando la massoneria. Solo basso di queste considerazioni, forse è possibile, io penso, che l'Andrangheta ha spostato al summit del 69 per ascoltare il discorso che qualche si avrebbe dovuto tenere la legge con la legge un giorno prima, perché era preoccupata piuttosto dell'arrivo a legge di un fascista che magari poteva trovare l'occasione per riproporre le vecchie strade che prevedevano tra l'altro il contrasto con l'Andrangheta. Questa è una tesi molto più credibile, molto più sostenibile rispetto a quella che porta avanti la sinistra e c'è la stampa regina. Ma c'è un'altra considerazione da fare. L'Andrangheta, a differenza di cosa nostra, non ha mai cercato lo scontro con lo Stato, sia la vecchia strade che l'andrangheta, anche l'andrangheta è la proprio contraria. Le nuove leve che volevano scappinare le regole, che hanno creato la santa, volevano entrare in rapporti con lo Stato, con apparati deviati, per scendere a compromesso, per trovare persone nelle istituzioni che in un certo senso potessero, da loro manforti, potessero comunque consentirgli di beneficiare i propri attività illecita e quant'altro. Magari anche le famiglie, le nuove, le stefane e quant'altro, non cercavano il contrasto, ma cercavano la vicinanza di apparati deviati. E se noi accettiamo la tesi che l'andrangheta ha monopolizzato tramite l'estrema destra dalla rivolta e avuto i due ricordi borghese, non si capisce perché, incluso, la rivolta è fallito e no, non si è stata perseguitata con tutti gli altri. Cioè, se l'andrangheta si è posta in queste condizioni così di contrasto con lo Stato, ha dovuto essere perseguitata. Anche perché in Sicilia, cosa mostra durante gli anni 80 e 90, la sua, diciamo, ha, possino essere in Sicilia una strategia di contrasto molto ampia e dopo la morte di Falcone, qualsiasi portellino è stata duramente perseguita. In semplice che questo si sia verificato anche a Reggio, se effettivamente ha fatto quello che ha fatto. Mentre persone come Allora, come Mecuri e come anche sicuramente nazionale sono stati sottoposti a processi, a calunni, a diffamazioni, a vita di cristola e in isolamento e quant'altro. All'ossi di ciò la nostra tesi è un'altra. Partendo dal presupposto che Reggio, il potere politico imparabile si basava su altri partiti e partendo dal presupposto che le nuove leve dell'andrangheta non volevano un contrasto con un'alleanza, forse è possibile perché la rivolta con l'arrivo della polizia e quindi i soldi di leve non c'è un senso impedito loro di fare affari, forse è possibile che lo Stato con i dei viani abbiano contattato l'andrangheta con le nuove leve per eliminare la rivolta. E secondo me questa è una tesi incredibile anche perché, ripeto, ci sono altre strade che possono essere eseguite, non è possibile costruire un processo o degli accusi su Giacomo Lauro che era socialista, antifascista e vicino ad altri personaggi. Non voglio lasciare facile accuso più alla sinistra, però voglio aggiungere le persone a riflettere su questo aspetto, non è possibile basare una ricostruzione storica sulle lezioni e misificazioni di una persona buia e equivocata tra l'altro che ha rapporto con altre persone. Concludo, abbiamo realizzato in campagna elettorale la famosa campagna Basta con i compagni del sistema Otto Fittu, Tavolo Caffè, abbiamo preso condizione contro il sistema politico attuale, abbiamo denunciato la mancata della pagata trasparenza, lo scambio del voto, insomma siamo stati presenti nel contegno contro l'andrangheta, siamo stati presenti direttamente la questione d'arresto del vostro Giovanni De Gano, abbiamo avuto una cosa concreta per la nostra carenza di un insieme morale, non è possibile, ma possiamo accettare la cosa di un gruppo di individui frustrati che hanno fatto della delegittimazione dell'altro sullo strumento politico per eccellenza perché non sono più in grado di confrontarsi sul piano delle idee, sul piano dei valori e sono incapaci ormai di poter incidere sulla realtà. Due osservazioni, oggi in azienda del Consiglio regionale i giovani devono prendere l'altro in una situazione molto grave che segna comunque il fallimento del sistema politico che è globale, dovremmo riunirsi tutti quanti superando stecati ideologici, superando le economie destra-sinistra e quant'altro attorno a un progetto comune che si basa su qualora i principi condivisti, che si basano sul principio della collaborazione, della partecipazione e della responsabilizzazione. Per cui vedo l'estrema sinistra attaccare i toni e cercare di trovare anche insieme a noi delle strade che possono assicurare questa città un futuro più dignitoso. Grazie.